Pronto dottore, il programma che parla della nostra salute. In questa puntata, la prevenzione sanitaria, medical news, notizie per orientarsi nel mondo della sanità. La prevenzione, cioè quell'azione tecnico-professionale che mira a ridurre la mortalità, promuovendo la salute ed il benessere individuale. Ce ne parla il dottor Simone Santopietro, direttore sanitario dell'Istituto Palloni di Montevarchi. La prevenzione in medicina, per quanto riguarda la salute, è estremamente importante per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, quello più semplice è che ci fa stare più tranquilli. Nel senso che se una persona esegue piani di prevenzione ben strutturati, sistemati nel tempo, ha anche la possibilità di stare più tranquillo, di non avere pensieri o brutti incubi nel credere o pensare di avere qualche malattia strana. La cosa ovviamente più importante è quella di riuscire a, magari, se succede, evidenziare una patologia nel momento il più precoce possibile. Questo ci consente, innanzitutto, di non incidere anche sul costo che è quello della sanità, che comunque è una cosa importante perché è una patologia che viene, diciamo così, presa precocemente, che ha anche, magari, la necessità di terapie meno costose ma anche meno invasive e quindi si ha la possibilità anche di essere curati soffrendo anche un po' meno. Per quanto riguarda l'iter che ci porta a percorrere un percorso preventivo, dobbiamo dire che non è per tutti uguale, cioè non è uguale per l'uomo, non è uguale per la donna, ci sono delle patologie che hanno un'incidenza diversa sull'età, sul sesso, cosa anche molto importante da non trascurare, sono i fattori di rischio. Ovviamente ci sono alcune patologie che sopravvengono ad una certa età e si ha, appunto, la necessità, se si ha un genitore o un parente stretto che ha avuto una patologia particolare, di iniziare la prevenzione verso quella patologia un po' prima. Questo ovviamente spetta allo specialista e alla figura, secondo me, centrale in questo ambito, che è quella del medico di famiglia, il cosiddetto medico di base, perché è colui che ci conosce, è colui che ha sott'occhio tutto il nostro percorso di salute, conosce i nostri esami, conosce la nostra storia, conosce la nostra famiglia, quindi dobbiamo cercare di farsi guidare dal medico e o dallo specialista che magari interpelliamo in un percorso di riabilitazione corretto. È assurdo compiere visite specialistiche, esami a casaccio, diciamo così, tra virgolette. Bisogna seguire un certo iter, bisogna farsi un piccolo scadenzario, per cui sappiamo che il medico ci ha detto che una volta all'anno devo fare questo esame, una volta ogni due anni devo fare quest'altra visita, tutti gli anni devo fare l'esame del sangue. In questo modo si riesce a percorrere questo tipo di percorso nel miglior modo possibile. Rientra anche nel concetto della prevenzione, quello che viene chiamato il corretto stile di vita, per quanto riguarda l'alimentazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'attività fisica. Ecco che è bene, soprattutto in un'età anche un po' più avanzata, cercare di andare in posti dove la persona viene un po' più seguita, dove si ha la possibilità di essere magari guidati anche in quello che è l'esercizio fisico con finalità di salute, diciamo così, non di performance agonistica. Per quanto riguarda il discorso, dicevamo, dei percorsi, è ovvio, come abbiamo detto, che c'è una differenza sostanziale per quanto riguarda il sesso, cioè l'uomo e la donna seguono poi dei percorsi paralleli, ma totalmente o quasi totalmente diversi. È ovvio che la donna dovrà, anche in base all'età, eseguire esami come la mammografia, fare una visita senologica curata. Se siamo oltre 40 anni è indispensabile, perché per fare diagnosi è indispensabile, anche l'ecografia. E quindi il pacchetto deve essere fatto in un certo modo. Lo specialista che esegue questi tipi di esami deve essere attento e deve comunque compiere un percorso intero e non fermarsi solamente all'esecuzione, alla mera esecuzione di quello che può essere l'esame. Ovviamente la visita ginecologica, ovviamente il pap test, tutta una serie di esami ematochimici che possono e devono cambiare in base all'età della donna, al periodo di fertilità, premenopausa o menopausa. Importante è anche il percorso di prevenzione che deve riguardare la tiroide. Anche lì si parla di esami ematochimici, di ecografie della tiroide. Quindi farsi visitare da specialisti che seguono queste patologie giornalmente. L'uomo invece ha bisogno ovviamente di altri tipi di approcci. L'urologo è la figura chiave in questo, soprattutto dopo una certa età. Quindi anche il controllo del PSA, la visita, perché come sappiamo le problematiche legate all'ipertrofia prostatica e al tumore della prostata, sono comuni, abbastanza comuni nella popolazione maschile dopo una certa età. Quindi qual è il consiglio finale? È semplicemente di volersi bene. Tutto ciò che abbiamo detto, tutto quello che riguarda il concetto della prevenzione, è fondamentalmente quello di riuscire a voler bene alla propria persona. Se si riesce appunto a istruire determinati percorsi senza fobie e senza paure, si riesce esclusivamente a volersi bene. L'inverno spesso porta con sé oltre alla classica influenza anche una leggera forma di depressione, nota col nome scientifico di sindrome affettiva stagionale. Le categorie più soggette sono soprattutto le donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, ma anche gli anziani e i bambini, che mostrano soprattutto sonolenza e difficoltà di concentrazione. I sintomi tipici sono ansia, irritabilità, stanchezza, mal di testa, alterazione del sono e dell'appetito. Le ragioni sono da ricercarsi in una variazione dei livelli dei neurotrasmettitori, serotonina e dopamina, dovuta alla diminuzione della luminosità ambientale di questo periodo. È però possibile intervenire in modo naturale per alleviare i sintomi di questo disturbo. Vediamo come. La prima cosa da fare è trascorrere il più tempo possibile ad aperto. L'ideale sarebbe fare una passeggiata dopo pranzo, assicurarsi ogni giorno una buona dose di Omega 3, optando dunque per piatti a base di pesce. Mangiare cioccolato fondente, che consumato con moderazione favorisce un buon apporto di triptofano, precursore della serotonina. Importante poi assumere una buona dose di magnesio, in grado di contrastare stati di ansia e di iperemotività. Via Libra dunque al consumo di cibi che ne sono ricchi come frutta secca, banane e cereali integrali. In generale poi è sempre importante il supporto da parte di parenti e amici per combattere la tristezza e la solitudine. Un corso per mangiare bene e perdere peso. In Toscana c'è un nuovo modo di far salute. È un nuovo e originale progetto nato all'interno della pubblica assistenza di Ponsacco e della professionalità di tre volontari, una naturalista, una nutrizionista e una psicologa. Quello che viene proposto in questo corso è la scoperta di se stessi e degli aspetti alimentari del mondo che ci circonda. La condivisione, mangiare insieme, confrontarsi diventa il mezzo principale per il raggiungimento di un benessere psicofisico e di un rapporto con il cibo che diventa alleato e non nemico del nostro corpo. Sono proposte quindi, oltre a lezioni specifiche, della nutrizionista e della psicologa, anche corsi di cucina, passeggiate, attività fisiche e creative, collezioni didattiche presso le aziende agricole del Consorzio dell'Agricoltura Sociale di Valdera. Questo progetto, infatti, vuole sottolineare come la salute e il benessere passano anche dalla consapevolezza dell'ambiente che ci circonda, della sua bellezza e, in particolare, del ruolo fondamentale della biodiversità in agricoltura e nella nostra vita quotidiana. Un progetto di prevenzione rivolto a tutti quelli che vogliono imparare a mangiare meglio perché hanno colesterolo e trigliceridi alti, a chi ha appena partorito o è ancora in attesa, agli anziani, agli adolescenti, a chi ha qualche chilo in più o anche a semplici curiosi. È un percorso di 4 mesi, da marzo a giugno, a cadenza settimanale, più le uscite e l'attività fisica. Per maggiori informazioni potete contattare la pubblica assistenza di Ponsacco. Oggi parliamo dei prodotti solari. I prodotti solari sono delle formulazioni sotto forma di creme, gel, stick o lozioni che applicati sulla pelle prevengono i danni dall'esposizione solare. Uno dei danni maggiormente diffusi e importanti dell'esposizione solare non protetta è il melanoma. Il melanoma è in continuo aumento, si parla di un incremento del 4% annuo con un numero di persone che varia da 6 a 9 ogni 150.000 abitanti. Per prevenire il melanoma è importante applicarsi appunto una crema solare. I danni dell'agrazione solare non protetta possono essere anche il fotoeritema e anche l'antiaging, il fotoantiaging, quindi l'insorgenza di rughe precoci e anche di macchie. Proprio per prevenire tutto ciò si dovrebbe utilizzare un prodotto che scherma sia dalle radiazioni UVA che dalle radiazioni UVB. I prodotti solari sono dotati di diversi fattori di protezione che valgono dal numero 6 al numero 50. Il 6 chiaramente è il minore, il 50 si può considerare come la protezione massima ed indica il rapporto fra il tempo di esposizione affinché avvenga una reazione cutanea con la crema e senza la crema, vale a dire che se io mi applico una crema con protezione 6 posso stare al sole 6 volte più a lungo rispetto a quando non ho la crema prima di avere una reazione cutanea. La giusta e corretta scelta della protezione solare può essere consigliata dal farmacista in base al fototipo della persona, persone appartenenti al fototipo 1 e 2, quindi persone con capelli rossi, biondi oppure con occhi chiari, devono necessariamente applicare una protezione che va dal 30 al 50, mentre invece persone appartenenti al terzo e quarto fototipo possono applicare anche creme con un fattore di protezione più basso. Oltre a questo il farmacista potrà anche consigliare il tipo di solare più adatto in base alla tipologia di pelle della persona e anche in base alla latitudine o altitudine del posto in cui avverrà l'esposizione solare, oppure anche una protezione da utilizzare tutti i giorni per la vita all'aria aperta anche in città. Anche per questa settimana è tutto, se volete rivedere le puntate potete seguirci sui nostri social network, per chi volesse partecipare alla puntata potete contattarci sulla nostra mail. Grazie, arrivederci a tutti e alla prossima puntata. Grazie, arrivederci a tutti.